Mio Dio! Incredibile! Un tifoso rossonero ha appena raccontato che è successo al Mian, nessuno se lo aspettava. Il laterale sinistro non ha impressionato il team tecnico in questa stagione e potrebbe essere sul punto di partire. Questa volta, i rossoneri stanno cercando un italiano per sostituirlo. Se sei un fedele tifoso della grande Italia e non vuoi perdere le ultime novità del Milan, iscriviti al canale ora! Seguirò tutte queste novità e ti aggiornerò prima di tutti! Ballotur è arrivato in squadra dal Monaco per circa 4 milioni di euro, ma non ha mai impressionato molto in campo. Stasera giocherà dal primo minuto perché Tio Hernandez è influenzato e questo ha evidenziato la debolezza della squadra. Secondo calciomercato.com, Paolo Maldini e Ricky Massara stanno lavorando per l'acquisto di un nuovo terzino sinistro. Infatti, stanno cercando alcuni italiani perché sarebbe molto benefico per la lista dei convocati della Champions League. Per non perdere le ultime notizie del Milan, è molto importante che lasci un like perché YouTube continui a diffondere queste informazioni per te. Al momento, i due nomi nella loro lista sono Antonino Gallo, 23, Lecce, ed Emanuele Valeri, 24, Cremonese. Tuttavia, non hanno ancora completamente convinto il Milan e quindi la soluzione potrebbe essere diversa. Andrea Bozzolan, la stella della primavera di 19 anni, ha impressionato sotto la gestione di Ignazio Abate e potrebbe essere promosso in prima squadra. Questa sarebbe la soluzione di riserva. Ehi, tifoso del Milan, secondo Teballo Ture non ha fatto bene in questa stagione e il Milan ha bisogno di rafforzare la fascia laterale o no? Qual è la tua opinione? Scrivilo nei commenti perché è molto importante per la nostra squadra rossonera. Stai attento perché potrei aggiornarti in qualsiasi momento con le ultime notizie del Milan.